Questo video riguarda i migliori tre penne per stampa 3D. Il vincitore della qualità è il 3 Doodler Crit+. Il mondo è la tua tela. Scopri un nuovo modo di creare arte, progettare e personalizzare gli oggetti. Questo strumento versatile può aiutarti a progettare soluzioni per i problemi quotidiani. Estrudi plastica riscaldata che si indurisce quasi istantaneamente, in modo da poter disegnare strutture 3D, a mano libera o su stencil. Basta collegare la penna 3D, inserire 3 Doodler Create Plastica, attendere che la penna 3D si scaldi e poi sei a posto. Questa penna 3D viene confezionata con 15 diversi colori di 3 Doodler Crea ricariche di plastica e una guida completa alle attività. Ottieni la migliore esperienza di disegno 3D utilizzando solo i migliori e più sicuri 3 Doodler Crea filamenti di plastica. Il primo al mondo in un dispositivo di stampa 3D. Caratterizzato da una migliore potenza, durata e affidabilità per un'esperienza di scarabocchio superiore. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Dicale Set di penne. La confezione contiene una penna per stampante 3D. 12 colori 1,75 mm PLA 3D, ogni colore 3 metri. Come un alimentatore, una guida passo dopo passo e una linea di stencil gratuita. Questo set di penne per stampa 3D è un regalo creativo per i bambini. Può aiutare il pensiero a sventolare, illuminare l'intelligenza, stimolare la creatività e rafforzare le abilità pratiche. Per un bel periodo di famiglia. La penna per stampante 3D Dicale e i filamenti per stampante 3D PLA da 1,75 mm sono controllati di qualità premium. I filamenti sono confezionati sotto vuoto. Non si formano bolle durante l'uso. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso. Dopo aver terminato il disegno, premere e tenere premuto il pulsante di retromarcia per ritirare il filamento. Il vincitore del premio è il filapen penna 3D. La penna 3D filapen è ideale per bambini, ragazzi e anche per adulti. La tecnologia a bassa temperatura fa sciogliere il filamento PCL a bassa temperatura. Facile da usare, sei una delle persone che amano progettare, dipingere o cercare una nuova sfida nel settore artistico. Regalo perfetto, fate felici i vostri cari. L'innovativa penna 3D fa battere più forte ogni cuore, sia giovani che anziani. Con il set di penne 3D in una scatola di alta qualità, sarete sicuramente una sorpresa. A differenza di altre penne 3D, il set di penne 3D filapen non produce odori nocivi durante l'uso della penna per stampante 3D. La penna per stampa 3D di filapen ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare. Riceverete la penna per stampante 3D, una scatola di alta qualità, una custodia di alta qualità, 10 filamenti PCL. Se il video vi è piaciuto, saremo lieti di ricevere un mi piace e un commento.